Allora, chi è a favore della proposta di Dina? Di Candy? Di Randy? Di Betty? Di Stefani? E ora vediamo quante sono a favore di Elizabeth. Oh, mio amico, è partito... No, 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 no... Che c'è? Non potresti provare a sudare come facciamo tutti quanti? Dai, rimettiti al lavoro, sennò pensano che ti protegghi. Andiamo a vedere. Che gli hai preso? Devo provare. Vai in vista. Lasciatelo sfogare. Ma chi è? Che gli hanno fatto? Overino. La polizia ha sparato al suo padre. È più morto che vivo. Mio Dio, che eroe! Adesso basta, Randy! Lasciami! Vattene via giù! Lasciami stare! Ascoltami! Vole di Tocchiare! Sì, ma... Non costringi al mio fortimare! Basta! Basta! Che ho detto! No! Sta calmo! Lasciami andare! Lasciami andare! Ti prego! Ti prego! Lasciami andare! Non puoi farci niente tanto, no! Neanche tu puoi farci niente! Ascoltami! Cerca di reagire! L'ho sparato a mio padre! Lo so! Devi essere forte! Su! Adesso calvati! Coraggio! Coraggio! Ben! Lo spettacolo è finito! Penso! Grazie.